E' rivolta soprattutto ai giovani appassionati e con talento per l'immagine e la creatività la prima edizione del Pescara Photo Festival. Pescara Photo Festival nasce dall'idea di mettere insieme le associazioni di fotografia amatoriale che sono presenti sul territorio, che già svolgono un'attività molto importante soprattutto a favore anche dei giovani delle scuole presso cui organizzano anche dei corsi molto interessanti e quindi cercare di creare un momento di condivisione in cui le associazioni si fanno conoscere e possiamo promuovere sempre di più l'arte della fotografia nella nostra città. Il festival si svolgerà da giovedì 21 e domenica 24 marzo nella sala Fraiano dell'Aurum a Pescara. Avremo modo di vedere sei mostre fotografiche, ognuna dedicata a un genere fotografico scelto dalla singola associazione e la possibilità anche di assistere a due seminari che si svolgeranno il giorno del venerdì pomeriggio alle 18 sul tema dell'intelligenza artificiale nella fotografia, tema molto dibattuto e molto attuale. e nel secondo giorno, il sabato, sempre alle 18, un altro seminario dedicato alle divine proporzioni nelle arti visive. Sarà modo sia per i giovani, le scolaresche, che per noi più adulti e magari appassionati di fotografia approfondire queste tematiche interessanti.